Ciao, allora questo è un video veramente veloce soltanto per mostrarvi dei miei lavori che appunto devo ancora completare ma che ho fatto questa settimana Allora, vi avevo fatto vedere quell'anello nello scorso video, quello rotondo con lo Swarovski grosso che avevo preso da Sabrina Cristalli Allora, avevo in casa anche altri quadrati grossi, sempre di Swarovski e ho provveduto ad incastonarli e anche di questi qua che vi mostrerò devo ancora realizzare la fascetta dietro Allora, il primo è questo era appunto uno Swarovski che avevo lì da diverso tempo e anche se non rende la telecamera è un bel lilla, fucsia, ecco che lilla, un bel fucsia e ho provveduto appunto a incastonarlo richiamando i colori e devo realizzare la fascetta per cui ho fatto questo qui, questo qua che era il mio preferito, questo verde sono molto più brillanti dal vivo questi colori questo che è un bellissimo verde appunto l'ho incastonato richiamando i colori del cristallo Swarovski e facendo il contrasto con un verde un po' più scuro e anche questo diventerà un anello saranno due anelli molto importanti che proporrò diciamo che secondo me al dito, ovviamente a chi piacciono, sono veramente belli eccoli qua altra cosa, altro anello e ultimo è questo realizzato con un cabochon che avevo fatto io in resina con i colori della Pebeo e questo colore blu con dentro degli schizzi color oro e ho deciso di richiamare appunto gli schizzi facendo un'incastonatura color oro e incollando poi una base regolabile oro e anche questo qua al dito oppla, sono partiti questi al dito è veramente molto molto bello e niente, adesso ne ho regalati tutti gli altri che appunto avevo e mi devo mettere sotto appunto a realizzarne altri perché ho visto come escono e sinceramente mi piacciono davvero molto e quindi queste qui sono le cose che ho fatto poi adesso sto facendo delle collane per un mercatino che dovrò fare con un'amica e niente, quindi poi vabbè vi mostrerò quello che realizzo scusate se parlo un po', faccio fatica a parlare ma Pebeo è arrivata e è arrivato anche il raffreddore quindi diciamo che sono abbastanza intasate quindi faccio fatica anche a parlare poi per chi mi ha chiesto i tutorial sia della pallina rivestita che anche gli altri che appunto devo preparare mi dovete dare un attimo di tempo perché devo andare a cercare un supporto giusto per l'iPhone visto che giro i video con l'iPhone perché con una mano sola faccio veramente fatica a farvi vedere quello che devo fare e la macchina digitale diciamo che non la uso più e quindi insomma cercherò un supporto adeguato per l'iPhone e poi dopo pubblicherò tutto quello che devo fare io intanto vi mando un bacio ciao, alla prossima!